Questa è la scuola dove io voterò domenica mattina. Invito tutti a andare a votare e invito soprattutto a esprimere il voto per me, per Alessandro Tambellini, perché credo che si debba dare continuità a un'esperienza amministrativa che ha dato buona prova di sé, che è riuscita a impostare un disegno complessivo per il territorio lucchese. Basta pensare a ciò che abbiamo fatto per l'urbanistica, basta pensare a come abbiamo rimodulato il centro storico, come abbiamo cercato fondi per i quartieri oltre a circomalazione. E ora è il momento di interessare l'intero comune, come è giusto, come è necessario, come si deve fare. Per cui il mio invito è a non interrompere questa esperienza amministrativa, ma anzi a rafforzarla e a darle continuità per poter ottenere gli obiettivi che abbiamo programmato.